Forme di precarietà sempre più diffuse, inflazione, crisi energetica, la guerra nel cuore dell'Europa. Anche in provincia di Belluno si moltiplicano le situazioni di fragilità economica e sociale. Noi abbiamo alcuni centri di ascolto di carattere interparrocchiale o forreniale e abbiamo avuto in quest'anno circa 530 accessi. Devo dire che poi la povertà non è solo questa perché ci sono persone che vengono individuate dai parroci che passano comunque per altri canali a livello ecclesiale. A rivolgersi con maggior frequenza alla Caritas Diocesana le persone di nazionalità straniera, ma non mancano anche gli stessi bellunesi. La percentuale è al momento degli stranieri circa il 60%, quindi è maggioritaria, ma si trattano soltanto di immigrati, diremmo già residenti qui da diverso tempo, ma anche di richiedenti asilo. Considerato uno dei periodi più felici dell'anno, il Natale 2022 si scontra per queste, persone con le tante fragilità quotidiane. La realtà è che ci sono molte persone che hanno difficoltà a pagare gli affitti, a pagare le spese condominali, a pagare le bollette, le utenze fra l'altro sono un po' aumentate in questi ultimi tempi. Non c'è dubbio che queste cose si accompagnino a difficoltà relazionali, quindi soprattutto la solitudine, diremmo, e non solo per gli anziani. Prime sentinelle sul territorio, la Caritas Bellunese mira dunque ad ampliare i punti d'ascolto. Nell'arco di alcuni mesi vorremmo far partire un centro di ascolto nella convergenza foraniale Santa Giustina-Sedico, per la quale il BMG programma un incontro, e poi nello stesso periodo anche in Cadore. Le fragilità economiche e sociali sono da sempre un fenomeno trasversale. L'invito, specie in tempo di Natale, è dunque più che mai alla solidarietà. L'augurio più grosso che possa fare le nostre comunità, ma con tanto affetto davvero, è che apriamo il cuore a chi ha delle forme di precarietà che sono ormai molto molto visibili, quindi che non ci tiriamo indietro. Non guardiamo dall'altra parte, no all'indifferenza globale, ecco, come direbbe il Papa, lo diciamo anche noi.